Diplomazia di nuovo all'opera in Siria con lo stesso presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, che parla di una possibile svolta pur senza cancellare l'eventualità di un intervento militare. La Siria infatti ha accettato la proposta russa di mettere sotto il controllo internazionale il suo arsenale di armi chimiche. Una proposta nata in realtà da una battuta all'apparenza casuale dello stesso segretario di Stato americano, John Kerry, che interpellato durante una visita a Londra su che cosa Damasco dovesse fare per evitare un attacco, aveva replicato, consegnare subito tutte le armi di distruzione di massa. Uno sviluppo potenzialmente positivo l'ha definito Obama parlando alla CNN e ha promesso che la Casa Bianca si impegnerà con i russi e con la comunità internazionale per verificare se sia possibile arrivare a qualcosa di serio e che può essere rispettato. L'occhei di Damasco è arrivato, secondo quanto spiegato dal ministro degli esteri del regime di Assad, perché così vengono a cadere tutte le giustificazioni per un'aggressione americana. Una svolta talmente positiva che è stato anche rinviato il voto al congresso USA su un intervento militare. L'iniziativa russa piace anche all'Iran, alla Cina e alla Lega Araba e consensi sono arrivati, seppur con cautela, anche dalla Gran Bretagna, dalla Francia e dall'ONU che hanno offerto di prendersi cura degli arsenali chimici siriani. Di diverso parere, la coalizione nazionale siriana, principale blocco dell'opposizione al regime di Damasco. La proposta non risponde alla questione della responsabilità dei crimini commessi contro gli innocenti, si legge in una nota. Si tratta, ribadisce la coalizione, di una strategia politica che mira a temporeggiare ancora, che consentirà al regime di provocare ancora morti e distruzioni in Siria e che rappresenta una minaccia per i paesi e i popoli nella regione. Per il momento, comunque, l'ipotesi di intervento militare si fa più lontana.